Nautv su televisore Philips. Se sei un appassionato di spettacoli, film e sport di Sky TV, allora Nautv è sicuramente un'ottima opzione per te. Tuttavia, spesso guardare Nautv sulla tua Smart TV può essere un po' complicato. Ma non preoccuparti, perché in questo video ti mostreremo come installare Nautv sulla tua Smart TV Philips e goderti tutti i tuoi programmi preferiti sul grande schermo. Oltre a fornire accesso a una vasta gamma di programmi, film e sport, Nautv ti permette anche di mettere in pausa e riavolgere i canali live in modo che tu non perda mai un momento importante. Ecco perché è così importante sapere come installare Nautv sulla tua Smart TV Philips. La buona notizia è che installare Nautv sulla tua Smart TV Philips non è difficile come potresti pensare. In questo video, ti mostreremo passo per passo come installare l'app Nautv sulla tua Smart TV Philips, anche se non hai una versione Android della TV. Inoltre, ti mostreremo come risolvere eventuali problemi che potresti incontrare durante il processo di installazione. Non devi preoccuparti di dover acquistare un nuovo dispositivo esterno per guardare Nautv sulla tua Smart TV Philips. Tutto ciò di cui hai bisogno è di seguire le istruzioni del nostro video e avrai accesso a tutti i tuoi programmi preferiti in pochi minuti. Non perdere altro tempo a cercare di capire come guardare Nautv sulla tua Smart TV Philips. Guarda il nostro video e impara come farlo in modo rapido e semplice. Non solo godrai dei tuoi programmi preferiti sul grande schermo, ma lo farai anche senza dover comprare costosi dispositivi esterni. Grazie per aver guardato questo video. Se volete aiutare il canale non dimenticate di iscrivervi. Da qui vi auguriamo una buona giornata.